Aiuole Verdi, luci a led, spazi per la sosta segnalati e camminamenti per disabili. Sono i dettagli che caratterizzeranno il nuovo parcheggio temporaneo nell'area Ticosa di Como, che probabilmente non sarà pronto prima della primavera del prossimo anno. La decisione è stata presa ieri dalla Giunta. Il parcheggio, che comprenderà circa 70 posti auto, sarà realizzato qui, nella spianata che si trova tra l'edificio della Santarella e via Sant'Abbondio. Qualsiasi sarà la destinazione futura della Santarella, sia che diventi museo oppure una nuova sede dell'Università, l'intenzione dell'amministrazione è che lo spazio davanti all'edificio sia adibito comunque a parcheggio, spiega l'assessore Vincenzo Bella, che aggiunge. Occorre infatti tener conto della posizione strategica della zona, che si trova a ridosso di alcuni spazi della città di notevole pregio storico. Il costo del progetto ammonta circa mezzo milione di euro. Intanto l'amministrazione cittadina al momento non si sbilancia su tempi di realizzazione e sull'eventuale tariffa da applicare ai posteggi. Aspettiamo il parere della conferenza dei servizi da parte della provincia, che arriverà tra una decina di giorni, dice Bella. Dopo le analisi necessarie per l'aggiornamento del piano del traffico, rivedremo anche quello della sosta, e allora potremo calcolare la tariffa oraria anche per il parcheggio della Santarella. Sicuramente le tariffe non saranno le stesse di Viale Varese e di Viale Lecco, spiega l'assessore all'urbanistica Marco Butti. Nonostante l'area della Ticosa sia comunque una zona vicina al centro storico della città. Si potrebbe dunque prevedere che per i nuovi parcheggi nell'ex Tinto Stamperia saranno applicate le tariffe dei posti auto lungo via Regina, vicino al cimitero, dove oggi lasciare l'auto per l'intera giornata costa 3 euro. Infine, sulle tempistiche di realizzazione, l'assessore Butti dice il parcheggio potrebbe essere realizzato entro aprile o maggio del prossimo anno.